E' stato provato ieri sera in Consiglio Comunale il protocollo d'intesa della Convenzione con Terna per quanto riguarda le opere compensative da realizzarsi nel territorio sia di Carrara che di Metauriglia per l'Adriatic Link, questo retrodotto sotterraneo che dovrebbe unire la Regione Marche con l'Abruzzo. Assessore Manocchi siamo giunti a conclusione dopo tanti incontri effettuati anche nel territorio. Ebbene quindi è un punto importante questo raggiunto ma poi dovrebbe ancora proseguire questo itinerario verso la realizzazione i cui lavori sono previsti come inizio nel mese di dicembre. Esattamente, si ieri sera in Consiglio Comunale abbiamo approvato la Convenzione, il protocollo d'intesa e quindi autorizzato ovviamente il Sindaco alla sottoscrizione formale di questi atti. Un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo, in questi mesi abbiamo lavorato veramente incessantemente incontrando i quartieri due volte quindi in prima battuta all'inizio quindi per riprendere le fila di quello che era stato fatto fino a quel momento abbiamo dovuto chiarire tanti punti anche i cittadini soprattutto ricordo il quartiere di Metauriglia che aveva tante perplessità. Con un incontro successivo abbiamo puntualizzato insieme a loro una serie di opere che possiamo dire essersi raddoppiate rispetto a quelle inizialmente preventivate ma questo anche un po' su indicazione di terra nella misura in cui è fondamentale avere un ventaglio di opere da mettere a terra e avere la possibilità concreta di non fermarsi ma chiaramente di intervenire su quei quartieri che sono massimamente colpiti da questa importantissima e veramente imponente infrastruttura che sono appunto i quartieri di Metauriglia e di Carrara. Queste opere che anche l'amministrazione comunale se ne farà carico quindi mettendolo nel piano triennale delle opere pubbliche cercando di affrontare anche la possibilità di partecipare anche a bandi quindi cercare di finanziare queste opere ma avere ecco ripeto la possibilità di non fermarsi e andare spediti nella realizzazione. Per quanto riguarda le priorità indubbiamente ci saranno opere che verranno messe a terra in relazione al progetto che sia principalmente disponibile e quindi dove appunto in maniera spedita possiamo cercare di metterle a terra. Ovviamente il quartiere di Carrara è quello che è maggiormente coinvolto e quindi ci sarà una massima attenzione però ecco quello che ci tengo a sottolineare davvero in questi mesi abbiamo fatto un lavoro incessante anche con la società cercando di mettere a punto queste che sono delle opere fondamentali per la città e soprattutto per i cittadini che chiaramente vengono impattati da questa infrastruttura. Sessore questo significa che se non basteranno i 12 milioni di terna farete fronte per la realizzazione dei progetti anche con il bilancio del comune? Verranno messi nel piano delle opere triennali quindi sì nel senso che chiaramente con una programmazione cercheremo ovviamente con delle priorità cercare di ovviamente di far fronte a queste opere come dicevo prima cercando anche di poter accedere a dei fondi e dei bandi per ovviamente mettere in campo tutte le risorse economiche per far sì che chiaramente queste opere vengano di fatto realizzate. Avete stralciato anche gli elettrodotti in superficie l'intero aumento? Sì abbiamo ritenuto che quelle risorse erano opportune in opere di cui i quartieri necessitavano e la cosa fondamentale è che questa concertazione è avvenuta con i cittadini quindi queste decisioni sono state prese insieme ai quartieri molto peraltro riunioni molto partecipate e quindi questo è stato un lavoro di sintesi e di concertazione.